Grazie a tutti. Grazie a tutti. Paolo Renati. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nel rammentarvi il fatto che siamo sistemi materiali, in quanto tali siamo necessariamente soggetti a leggi della natura, e che ci sono degli strati descrittivi, che a partire, se vogliamo, da un punto che lascia un attimo in sospeso, arrivano poi fino ai livelli epistemologici più ampi, più complessi. Quindi a partire da quello che la fisica descrive, riusciamo a farci un'idea su come possono, per esempio, interagire molecole, e quindi parliamo di chimica, biochimica. Dalla biochimica possiamo fare un portrait su quello che è la biologia molecolare, e poi la biologia molecolare detta un po', criteri di verità o di falsità su quello che oggi chiamiamo fisiologia, medicina, eccetera. Il punto che ho lasciato in sospeso all'inizio è la Weltanschauung, cioè la visione del mondo. Qualunque teoria, qualunque approccio, qualunque episteme, è figlia delle categorie descrittive con cui si invera. E allora questo è un punto importante, perché se io parto già dall'assunzione che la realtà è una somma di parti, otterrò delle risposte congruenti con questo tipo di Weltanschauung. Se il processo di riduzione, che non è una cosa da deprecare, da deprecare è il riduzionismo, un certo tipo di riduzionismo, ma se il processo di riduzione, che è sano e che ci permette in qualche modo di poter esatto ridurre a cause, a principi, a qualche modo leggi, quello che possiamo vedere su un piano fenomenologico, se il processo di riduzione viene per primo e basta, è ovvio che il risultato che avremo sarà abbastanza povero, perché potremmo avere un linguaggio scientifico adeguato solo a descrivere enti e parti, ma non relazioni. E questo già lo diceva Korzybski, e poi anche Bateson l'ha ripresa questa cosa. Se invece il processo di riduzione viene in seno già a una visione holos, in cui si ha già ben chiaro che la realtà è un tessuto di relazioni dinamiche, quindi che si muovono diciamo in maniera pretere spaziale, pretere temporale in qualche maniera, ecco che poi la riduzione che possiamo generare in conseguenza è consistente, perché tiene conto di questa visione, ok? Questo ci volevo, ci tenevo a dirlo, spero di non annoiarvi. La prima domanda importante, secondo me, che estremamente la potrebbe fare sanamente un bambino di 4 anni, e sono le domande più intelligenti quelle, appunto è com'è che qualcosa che non si vede riesce a muovere qualcosa che si vede? Cioè, Natale ha parlato diverse volte di percezione, di emozione, di sentito, ma che cos'è sta roba? Perché, meglio, è giusto dire e chiedersi che cos'è? Perché nella parola cosa rischiamo appunto di pensare all'emozione come, così come erroneamente la medicina pensa alla malattia, un'entità. È arrivato il diabete. Oh, salve! No? È arrivata la dermatite. Come entità nosografica. Stessa cosa qua. Dico, cos'è l'emozione? Cos'è la percezione? Che diavolo vuol dire questa roba? Perché abbiamo intitolato il convegno risonanze biologiche, sistemi viventi, processi di percezione? Ecco, perché in realtà è proprio questa locuzione, processi di percezione, vuole proprio far capire questa cosa, vuole radicare il tema, in qualche modo, volante della percezione nella processualità del vivente, in quanto processo proprio, in quanto flusso. Il fiume esiste in quanto acqua che scorre. Ecco, questa domanda è molto legata ad altre domande. Sostanzialmente, qual è la differenza tra una materia viva e una materia non viva? Se voi pensate a una persona che in questo momento, pa, decede, dal punto di vista biochimico e strutturale è tutto uguale a prima. Però perché se gli spengo un mozzicone di sigaretta sul braccio, questo non ripara niente, e invece prima sì. E questo è un punto interessante, perché dobbiamo ricordarci che, e lo vedremo, gli stimoli produrranno un duplice livello di output, a reazione e risposta. La reazione la descriviamo con le leggi di Newton, così come posso dire cosa succede a un sasso a cui do un calcio. La risposta non è descrivibile in questo modo, così come non posso sapere cosa succederà se do un calcio a un gatto, che oltre che a essere soggetto all'energia cinetica che gli trasferisco, produrrà appunto risposte, comportamenti semantiche. Prima Natale ha fatto vedere che Lipton faceva vedere che la cellula poteva muoversi verso il nutriente o allontanarsi dalla tossina. Ebbene, ma come diavolo fa? Guardate che questo è un atto di, in qualche modo, di emergente, perché non è ontologicamente reale il libero arbitrio, visto che non siamo entità che esistono in se stesse, ma siamo processi di relazione, quindi dire io sono libero è qualcosa da prendere con le pinze. Però per dire, è un atto in qualche modo dove c'è la capacità di fare così o cos'ha, e non è spiegabile con la cascata chemiotattica della catena recettore-effettore. Perché se viene detettato dall'ambiente un nutriente, la cascata chemiotattica che ne deriva dall'eventuale aggiungimento di questo nutriente sui recettori di membrana, come facciamo a spiegare che in un caso produca movimenti del citoscheletro che avvicinano e in un altro che invece allontanano? Capite? E guardate che è una domanda molto, molto centrale questa. E di fatto vedremo che già questo atto, il fatto che arriva qualcosa, come sul recettore per esempio, è un atto percettivo. E vedremo cosa vuol dire da un punto di vista fisico. Perché l'ameba percepisce e la sedia no. Sono domande importanti. Si allegano queste. Che differenza c'è tra reagire e rispondere? Cosa significa appunto percepire? E che differenza c'è tra misurare e fare esperienza? Perché un diodo semiconduttore rileva il fotone, ma dico che è una misura, e invece se io sento la luce del sole sulla pelle faccio un'esperienza? Guardate che sono domande basic, proprio basic, a cui questo paradigma che abbiamo in qualche modo raccontato brevemente poco fa, con tutta questa, come dire, gerarchia epistemica, no? Dalla fisica, alla biochimica, al biologico malcolare, non è in grado, a cui non è in grado di dare risposte. Perché appunto la realtà viene vista come parti e quindi c'è una descrizione dei sistemi materiali che è incapace di contemplare proprietà emergenti. Proprietà emergenti come il significato. Cosa significa significare? Al di là del linguaggio. Ve lo siete chiesto? Che cosa significa significare? senza cadere nel mondo della linguistica e della sinottica, come faceva Umberto Eco. L'ameba non ha linguaggio verbale, eppure per l'ameba il glucosio significa vita, l'arsenico significa morte. Quindi cosa significa che per l'ameba significa? Questa è la domanda centrale a cui cercherò di darvi una risposta oggi. E sapete perché voglio fare questo? Che vi sembrerà magari una elucubrazione mentale? Perché io vorrei che da oggi in poi le cinque leggi biologiche fossero conosciute non perché ci piacciono, ma perché possiamo argomentare in maniera rigorosa la loro verità e sostenerla. Perché se non facciamo questo saremmo sempre nel credere e con le credenze succede i deliri che vediamo adesso. Come si origina un self? Esatto, il fatto che un sacchetto di molecole, così come verrebbe fuori descritto dalla biologia molecolare, in realtà è in grado di generare una sorta di identità, di chiusura organizzativa, di teleologia, di memoria, e quindi gli stati che produce sono conseguenti a ciò che ha vissuto prima, a ciò che lo ha configurato prima. Sono domande fondamentali. Allora, la risposta, come già ci ha accennato Natale, è il fatto, la dobbiamo cercare dal punto di vista del capire e caratterizzare i sistemi viventi dal punto di vista materiale, dal fatto che sono costituiti di questo straordinario elemento che è l'acqua, ma che è in uno stato particolare. Allora, io oggi non entrerò nei dettagli dell'elettrodinamica quantistica che descrive l'acqua, perché vi perdereste, c'è bisogno di più tempo e si fa nei corsi questa cosa. Però vi assicuro che è molto interessante. Anche lì, proprio per sapere e non credere. Le percentuali che di solito ragioniamo sono percentuali in peso, ma qui stiamo parlando di percentuali in frazione molare, cioè sul numero di molecole totali quante non sono di acqua? Molto poche. Guardate per esempio in un batterio di Escherichia coli, se uno fa un conteggio di tutte le specie molecolari che ci sono, in alto la prima riga, la seconda, vabbè, la prima è la dicitura del cosa viene conteggiato, acqua, 22 miliardi, 240 milioni, 561 eccetera eccetera. E guardate al secondo posto con che scarto di tre ordini di grandezza? Gli ioni. E poi giù a scendere ci sono aminoacidi, nucleotidi, proteine, RNA, poi fino ad avere uno di DNA, giusto? È una maggioranza schiacciante, perché praticamente il totale è quasi tutto di acqua, vedete, il totale è 22 miliardi, 437 bla bla bla, milioni, è quasi tutto acqua. Poi vabbè, ci sarebbe un commento da fare su gli ioni, che come vedete hanno una gerarchia di presenza molto, molto pronunciata, su potassio, magnesio, a scendere sodio, cloruri, eccetera eccetera. Questo poi lo si può discutere nel corso, adesso qui. Vi volevo far vedere questa cosa. Questo è proprio un conteggio di spettrometria di massa, prendi le schieriche a coli, vedi quanta roba c'è di ogni specie. Questo è quello che viene fuori. E stiamo in realtà oltre il 99%, siamo nel 99,99%. Ecco, come già accennato Natale, quest'acqua è in uno stato particolare, cioè in uno stato interfacciale. io adesso vi accenno brevemente come la Quantum Electrodynamics descrive l'acqua per farvi capire perché, che cosa vuol dire in qualche modo qualitativamente stato particolare. Intanto stato particolare è quello di cui si, Jerry Pollack parla come quarta fase dell'acqua, ma in realtà ce ne sono molte, nel senso che ci sono molti modi, tra poco capirete cosa vuol dire, di configurarsi e di oscillare, perché è di questo che stiamo parlando. Stiamo parlando di sistemi collettivi di molecole che sono collettivi proprio grazie al fatto che vengono messe in sintonizzazione le oscillazioni. La molecola come oggetto singolo è un oggetto quantistico. Quantistico significa che è destinato, forzato a oscillare. Perché? Perché la differenza tra fisica classica e fisica quantistica è che nella seconda nessun oggetto è isolabile e è in permanente dialogo col vuoto. E il vuoto è questo mare di eccitazioni sottostanti che impediscono la quiete. altro che horror vacui come diceva Junior Preparata appunto, ma l'horror quietis. Quest'acqua interfacciale ha delle proprietà tra i principali, il fatto di avere una viscosità molto più grande, quindi dieci volte circa quella dell'acqua liquida, questo dà quell'aspetto di soul gel, di una cellula o i nostri tessuti non sono liquidi, sono in qualche modo semisolidi, sono cristalli liquidi, sono anche compartimentati, vabbè, la cosa più interessante è questa a sinistra, a destra nella figura, cioè che l'acqua interfacciale adesa delle superfici idrofile ha una quantità di elettroni o diciamo di cariche elettriche facilmente cedibili e quindi si crea una differenza di potenziale tra il bulk e l'acqua adesa alla membrana a una superficie. Questo è un reservoir di energia, c'è una differenza di potenziale che non è così poco, anzi appunto è dell'ordine del potenziale di membrana, appunto vedremo perché, e questo è energia libera lì pronta per essere, per spendere, per produrre lavoro, lavoro elettrochimico, lavoro ossidoreduttivo, lavoro anche elettromeccanico, lavoro di emissione fotonica, eccetera, fononica, bla bla. E questo strato è nutrito sostanzialmente da frequenze infrarosse, il sole, prima cosa, Centrale, stare al sole è una cosa fondamentale, anche se non è la condizione sine qua, basta anche del calore, infatti esistono creature viventi nelle profondità marine a 2000, 3000, 5000 metri, esistono dei vermi tubolari che tra l'altro riescono a stare a temperature che vanno tra 200 e 300 gradi vicino a soffioni sulforici, sulfidrici, scusate. Allora, la drammatica sovrabbondanza di acqua è la condizione sine qua, non è possibile mantenere ordine nel vivente, per adesso prendetela un attimo così. Perché? se io parlo con un chimico fisico di mainstream e gli chiedo come fa, mi potrebbe chiedere ma tu parli di ordine perché l'acqua dovrebbe essere qualcosa che tiene ordine, secondo la convenzionale descrizione dei sistemi materiali, questo non è concepibile, perché l'acqua è un sistema stocastico di molecole, che si muovono e interagiscono con piccole, in piccolissimi intervalli in tempo e invece in un paradigma che tiene conto delle oscillazioni quantistiche in maniera non perturbativa come fa invece la meccanica quantistica ma se invece passiamo alla quantum field theory se io considero queste oscillazioni in maniera non perturbativa nasce la possibilità di contemplare scenari in cui queste oscillazioni vengono messe in fase e producono il configurarsi del sistema a uno stato di minore energia che è coerente ve lo faccio vedere subito cioè nella quantum network dynamics si ha sostanzialmente il fatto che quando la densità quando il numero di molecole io non so se questo è un laser che funziona si ah benissimo vedete il puntino si quando il numero di molecole cresce per unità di spazio ovviamente e questo è dato per esempio dal fatto che la temperatura sta scendendo ok quindi il numero di molecole per unità di volume è aumenta quando si raggiunge una certa soglia critica visto che ci sono due contributi di energia che sono dati da dei termini che adesso non vi sto a dire sono comunque dei termini di accoppiamento tra le eccitazioni del vuoto e gli elettroni delle molecole d'acqua a un certo punto come vedete c'è questo termine che è quello verde negativo che va come n per radice di n cioè il numero per la radice del numero e quindi scende più forte del primo e quindi dopo un po' questa curva che è la somma la blu piega e va sotto lo zero quindi la variazione di energia è negativa questo vuol dire che il sistema transisce a un altro stato termodinamicamente è favorevole questa cosa e si ottiene un termine di energia totale dove è finito il laser che qui si chiama ecoerente che in realtà è dato appunto da un'energia positiva spesa meno un termine negativo appunto il totale sarà che vince lui e quindi sarà negativo e questo termine si chiama energy gap che cos'è l'energy gap? è il fatto che il sistema coerente in cui quindi si passa da una situazione del genere è una situazione del genere è favorevole energeticamente c'è un energy gap cioè c'è un'energia in eccesso che viene liberata dal sistema e le molecole si trovano in uno stato di vuoto più basso quindi sono confortevoli vogliono starci lì e per portarle in maniera diciamo in uno stato disordinato devo spendere energia è chiaro che questo avviene perché il sistema è aperto può dissipare energia e quello che succede è che c'è un sistema diciamo in un bicchiere d'acqua a temperature ordinarie avete una cosa di questo tipo c'è un sistema bifasico dove ho due frazioni tanto più aumenta la temperatura tanto più aumenta il disordine e la frazione coerente diminuisce quindi c'è una regola della somma che in qualche modo detta come sono i rapporti tra le due e in queste zone dove le molecole sono in grado di condividere l'oscillazione tra loro e con un campo che è autointrappolato tra un attimo vi dico perché si chiamano domini di coerenza e il campo ha un profilo di questo tipo cioè dal centro alla periferia decade esponenzialmente questo uno dice ma perché mi stai dicendo questa cosa che è molto complicata questo decadimento esponenziale è fondamentale per farvi capire dopo tra tre a quattro slide il perché il modo di oscillare gestisce i percorsi biochimici e quindi la fisiologia perché oggi siamo pochi per capire questo quindi ve lo devo dire il campo rimane autointrappolato molto velocemente perché sostanzialmente questa eccitazione che all'inizio viene dal vuoto e che se fosse data una molecola sola lì per i fatti suoi per i fatti propri durerebbe un attimo quando le molecole sono tante comincia a diventare collettiva e il termine d'accoppiamento quindi diventa grande il fatto che diventi collettiva cosa significa che questa energia spende parte del tempo come campo parte del tempo come materia eccitata e quindi rallenta questo stretching del tempo rallenta la frequenza e produce quello che si chiama l'autoreflettanza interna si chiama meccanismo di Anderson Higgs e Keeble vedo le facce che mi suggeriscono di schippare sull'equazione non vi dico che ha una massa immaginaria perché non serve ve lo dirò nel corso chi vorrà farlo allora questo sostanzialmente è il portrait energetico energetico dell'acqua liquida a seconda quanto unetrodynamics fatemi dire solo due cose allora la molecola isolata è descritta dai livelli rossi cosa sono i livelli rossi il fatto che io sono una molecola isolata mi ritrovo in uno spazio sono soggetta a delle fluttuazioni elettromagnetiche che vengono dal vuoto qualcuna di questi calcioni eccita un mio elettrone e poi ovviamente questo elettrone ricadrà se sono da sola quando sono tante insieme a me questo fotone non interessa una molecola ma ne interessa tantissime quindi fino a un punto in cui la facciamo facile questo fotone rimane confinato in questo aggregato di molecole ok questo aggregarsi farà passare il diciamo il livello rosso basso lo farà diventare quello blu cioè quello che vi ho detto prima c'è un energy gap il livello fondamentale di vuoto della molecola passa a un livello più basso e questo è quello che ci dice che questa transizione dal disordine all'ordine è favorevole questa cosa si accompagna a una decrescenza della frequenza e a quello streccio in temporale che vi ho detto poco fa si chiama rinormalizzazione perché l'acqua è così interessante questa cosa può valere per un sacco di sistemi materiali ma perché l'acqua è quella che serve per riuscire a mettere su a mettere in piedi i sistemi viventi perché ha due particolarità non vi ho detto che questo livello qui scelto quello eccitato è uno tra tanti disponibili che ha delle caratteristiche che lo rendono prescelto che adesso non vi sto a dire per non appesantirvi le particolarità delle particolarità dell'acqua sono due che questo livello che vedete questo circhiolino ve l'ho espanso qua è molto vicino alla soglia di ionizzazione significa che gli elettroni della molecola d'acqua spendono una parte del loro tempo lì un ciccinino appena appena vicino a quell'energia che basta per farli perdere questo è centrale nei sistemi biologici la seconda particolarità è che qui in mezzo in questo piccolo spazio che vi ho zoomato così ovviamente questo è un disegnetto naif c'è una moltitudine fittissima di livelli che questi elettroni nello stato collettivo del dominio possono abitare e quindi è come dire che l'acqua può mettere su decine di migliaia di abiti può configurarsi in decine di migliaia di modi anche di più la spaziatura energetica di questi livelli è dell'ordine dei kilohertz un niente sono dell'ordine delle onde radio molto lunghe quelle che hanno lunghezza d'onda sui circa qualche decina di migliaia di chilometri poche decine di migliaia di chilometri queste sono le particolarità perché sono importanti perché mi permettono intanto la prima ve l'ho detta ve la ribadisco perché capisco che quello che dico è molto difficile ma non vi disperate perché alla fine di questa presentazione avrete una visione molto chiara di tutto quanto la prima particolarità ripeto è che gli elettroni in questo sistema sono facilmente cedibili e gli elettroni in biologia sono tutto perché quasi tutte le reazioni che abbiamo in un sistema vivente sono reazioni di ossidoreduzione un sistema sano è un sistema in cui avvengono le ossidoreduzioni pensate al ciclo di Krebs e pensate anche a tutte le possibilità di trasformare da uno stato a un altro certe proteine di membrana e quant'altro quindi avere un sistema in cui gli elettroni spendono parte del loro tempo molto vicini alla soglia di ionizzazione cioè a quell'energia che si è raggiunta li fa perdere è importante secondo perché l'acqua avendo tutti questi livelli è possibilitata di mettersi in un sacco di configurazioni ed è quello che ci serve per che cosa? Per guidare gli incontri biochimici e lo vedremo tra un attimo intanto vi dico che tante molecole che risuonano insieme producono coerenza ma quando alla coerenza di questo sistema acquoso sono possibilitate di partecipare altre specie chimiche si ottiene quella che si chiama super coerenza qui dovrei fare una piccola precisazione il dominio è un sistema a entropia praticamente zero disordine zero su questo su questo grado di libertà che è il grado dell'oscillazione del dipolo scusate dell'elettrone della molecola d'acqua significa che se riceve dell'energia non la può disperdere come calore perché disperderla come calore vuol dire perderla per attrito perderla in maniera incoerente e costerebbe energia perché gli elettroni dovrebbero diventare incoerenti ma sono protetti dall'energy gap quindi cosa vuol dire che io ho bisogno per riportarmi in giù di partner partner che però devono essere capaci di risuonare con le mie frequenze e questi partner guarda caso sono tutte quelle molecole che fanno parte di un sistema vivente praticamente noi potremmo dire che i sistemi viventi sono delle sculture d'acqua interpenetrate di una certa frazione di altra gente che è capace di condividere delle frequenze e quindi di andare a risonanza delle frequenze di lavoro dell'acqua faccio un esempio di amminoacidi ne esistono un fottio perché solo 20 sono quelli che servono per la nostra sintassi proteica guarda caso perché bisogna fare ancora degli studi su questo ma una buona ipotesi di lavoro è che moltissimo probabilmente questi sono quelli che hanno proprio dei modi o più modi che sono proprio in matching frequenziale con frequenze che l'acqua può assumere ho scritto che è un sistema frattale olografico perché perché se io cambio la configurazione di domini di coerenza e gli cambio la frequenza io vado a cambiare poi tutte le super coerenze successive mi spiego meglio questi partner permettono ai domini di dissipare energia e magari poi di riprendersela e quindi di fare un altro ciclo di oscillazione che è molto più lento e più grande di quello dentro al dominio questi questi cicli quindi sono concatenati e sono come delle matriosche il ciclo a scala più lenta e più larga dipende dal cicli a scala più fitta e più veloce io non posso modificarne uno senza modificarli tutti per questo che è olografico ed ecco perché per esempio il cambiamento di un mio macrostato decide qualcosa a livello fisiologico e biochimico perché se no non cambierebbe niente non so come dire sono disaccoppiabili io non posso avere cambiamenti macroscopici senza che siano accoppiati a quelli microscopici anche perché se no non ci sarebbero perché comunque il macroscopio è fatto del micro però in questo caso è importante sottolinearlo proprio perché si intenda che non si può lavorare cambiando un ciclo di lavoro qui senza cambiare tutti i sottostanti e viceversa ecco facciamo finta che adesso abbiamo preso un dominio di coerenza l'abbiamo schiacciato come una pizza adesso lo guardiamo di lato e lo tagliamo e vi ho detto prima il campo decade in modo esponenziale perché vi ho detto prima vi ho detto guardate che centrale questa cosa vi faccio capire perché il decadimento esponenziale del campo come linea gialla molto fatto molto a fumettino è accoppiato all'esistenza quindi di forze perché è un gradiente il gradiente la variazione del potenziale elettromagnetico produce l'emergere di forze ci sono due tipi di forze una forza che è detta statica cioè che non dipende dalla frequenza e un'altra che è dinamica cioè dipende dalla frequenza sono entrambi importantissime questa ci dice una cosa che tutte le cariche Q tutte le cariche elettriche che arrivano sul bordo del dominio vengono spinte all'esterno indipendentemente c'è un segno meno qua indipendentemente dal loro segno cioè sia che sia una carica più sia che sia una carica meno ma vengono spinte tanto quanto più sono leggere perché c'è una massa al denominatore cosa vuol dire detta i soldoni i protoni sono spinti poco perché pesano duemila volte più degli elettroni e che sono spinti molto di più quindi io ho la formazione di uno strato di doppio un doppio stato di carica che è sostanzialmente un sistema come dire è difficilissimo da ottenere ma avviene per un meccanismo elettrodinamico e questa quindi è una energia potenziale da usare vedrete tra poco cosa significa l'altra cosa che mi dice questa formuletta qua mi dice che quando due oggetti che hanno due frequenze omega k e omega 0 che sono simili questo denominatore che è al quadrato due volte arriva a zero molto più velocemente del numeratore quindi la forza diverge traduco quando due oggetti hanno una frequenza di oscillazione simile si attraggono prepotentemente questa legge è fondamentale perché mi dice che io ho un telecomando per scegliere chi arriva a reagire con qualcun altro immaginate che questo sia un dominio che ha una sua frequenza di oscillazione che è sentita nell'ambiente perché si disperde in qualche modo ci sono questi campi che debordano e queste pallozze colorate che vi ho messo sono altre molecole che vedete hanno pulsazioni diverse hanno velocità di pulsazioni diverse qualcuna più sa più veloce qualcuna più lenta mettiamo che ce ne sono alcune che hanno una frequenza molto simile a quella del dominio ecco quello che succede c'è una trazione selettiva delle molecole sulla superficie del dominio questo è vi siete mai chiesti come diavolo faccia una cellula a fare ciclo di Krebs perché questo momento il lattato reagisce con quest'altro elemento molecolare perché gli elettroni arrivano ora perché la cetilcolina entra adesso perché il glucosio entra in questo momento l'ATP in quell'altro chi è che chiama a convocazione le molecole al momento giusto chi è che poi dà elettroni che tutti i legami sostanzialmente che costituiscono le molecole che abbiamo in corpo sono legami covalenti quindi hanno un costo energetico per essere erotici ti devi dannare la risposta è sempre solo una l'acqua coerente dà elettroni e guida gli incontri molecolari in base alle frequenze di lavoro quindi alta selettività e poi altre attività per la ragione vi ho detto prima quest'altra forza che vi ho detto prima è quella che quando la molecola arriva sulla superficie del dominio vive una cosa drammatica tra virgolette cioè le proprie cariche elettriche i nuclei sostanzialmente le proprie nuvole elettroniche vengono strecciate pazzescamente perché gli elettroni sono più leggeri vengono spinti tanto i nuclei sono più pesanti vengono spinti poco e questo la rende instabile quindi altamente reattiva ecco perché è molto veloce è molto alta la resa delle reazioni nei sistemi viventi ecco questo è un punto centrale e vediamolo in dinamica che cosa comporta questa cosa è finito lì il giochino e no perché una volta che questo dominio ha fatto per esempio incontrare due partner molecolari perché erano quelli che risuonavano con la frequenza di lavoro in questo momento che abbiamo chiamato omega i questo promuove reazioni trasferimento di elettroni cessione di energia che cosa fa? magari avverrà una sintesi di una nuova molecola come vedete ma questo dominio ha cambiato identità ha cambiato frequenza e allora adesso cosa farà? sarà pronto a far risuonare dell'altra gente e a far incontrare questi altri e di nuovo promuoverà una reazione cambierà identità e farà un altro ciclo di lavoro altra gente si incontra eccetera eccetera e ragazzi questo è spiegato presto come si fa in biologia ad avere dei cicli ordinati di reazione in qualche modo vabbè questa equazione semplicemente vuol dire che le differenze tra le frequenze devono essere entro il rumore termico quindi tanto più la temperatura è alta e quanto più sporco posso essere questo è un punto centrale l'interazione chimica mutando la natura degli attori cambia la natura del dominio di coerenza ed emergono quindi in definitiva nuove frequenze del campo mentre spariscono quelle precedenti esiste anche quindi la dipendenza opposta perché io esatto se perturbo il sistema ed è quello che diceva prima Natale con le tossine cioè io perturbo la configurazione per esempio la concentrazione di un agente chimico cambio le frequenze di lavoro quindi c'è una dialettica tra elettromagnetismo e biochimica questo è interessante questo punto l'insieme dipendente dal tempo cioè noi stiamo guardando qualcosa che si svolge nel tempo i cui stati dipendono da tutto quello che c'è stato prima l'insieme dipendente dal tempo delle frequenze di lavoro di un dato sistema costituisce la sua identità vedete che l'identità è qualcosa di dinamico la sua specificità la sua legge di esistenza il suo percorso evolutivo date certe condizioni al contorno come campi statici alternati locali temperatura ma poi vedremo che a livelli più emergenti potremmo parlare di configurazioni semantiche cioè la tizia di cui raccontava Natale al lavoro vive un certo tipo di condizione al contorno vive un certo modo di oscillare questo modo di oscillare retroagirà sua propria fisiologia e quindi sua propria biochimica anche perché se no non ci sarebbe niente che sta sentendo sentire è cambiarsi un atto percettivo è sempre un cambiarsi adesso lo vedremo ecco in un certo senso tutto questo costituisce la sua psichè eccolo qua abbiamo ammazzato Cartesio finalmente una volta per tutte cioè non c'è la psichè che arriva sul Soma è il divenire del Soma la psichè ed è quella legge che fa divenire il Soma vedete che se noi continuiamo a ragionare con l'uovo e la gallina ci ammazziamo no? dobbiamo ragionare in maniera circolare non c'è questa è la causa questo viene prima questo è l'effetto no c'è una continua circolarità causale di questo quindi è un retrogirsi costante e questo è possibile da dove c'è non località e quindi entrare in un paradigma certamente quantistico pur sapendo che noi siamo oggetti classici noi siamo sistemi macromolecolari immensi non è che se io mi stampo contro un muro faccio effetto tunnel e passo dall'altra parte mi schiaffo e magari dovete chiamare l'ambulanza però siamo sistemi classici che emergono come tali a partire da leggi quantistiche ora giusto due parole su sulla morfogenesi cioè noi dobbiamo adesso abbiamo gli strumenti non solo per capire la composizione perché cambia in base a che cosa possiamo capire anche come le forme vengono prodotte se vi ho detto che sul bordo del dominio ci sono queste forze ponderomotrici che fanno queste decentrazioni di carica e tengono dispongono in qualche modo quindi gli oggetti abbiamo già capito che le strutture bidimensionali avvengono proprio come calco di queste superfici equipotenziali quindi stiamo potendo dar conto di come si formano le strutture 2D come diavolo fanno tutte queste molecoline di catene fosfolipidiche a disporsi in quel modo chi è che gli dice di andare lì cioè ma chi è nel senso che non c'è un occhio un capocantiere da fuori in qualche modo che gli dice aspetta metti un po' più qua ecco bravo spingi questo è self assembly ma ci vuole un agente che sia in grado di fare questo ecco noi stiamo riuscendo a immanentizzare questo agente così riuscendo finalmente a sbarazzarci dell'anima infusa che voglio dire no? strutture 2D strutture 1D le cellule il citoscheletro è pieno di strutture monodimensionali no? proteoglicani nel tessuto connettivo siamo in matrice extracellulare ma microtubuli fibre di actina collagene eccetera come si formano qui c'è tutta una dettagliata descrizione matematica molto bella che non faccio vi dico soltanto che per capirlo dobbiamo immaginare come come lavorano altri sistemi coerenti per esempio i superconduttori c'è l'effetto Meissner ossia dove ci sono dei campi che sono esatto prodotti da queste da queste diciamo interfacce coerenti come vi ho fatto vedere che escono appunto che dispersi disperano nell'ambiente bene questi campi nel mezzo coerente che comunque è tutto quanto vengono focalizzati perché si cerca di minimizzare l'energia quando un campo deve attraversare un mezzo coerente lo rompe rompe la coerenza tutti i sistemi coerenti cercano di espellere i campi parlo di campo elettrico e campo magnetico laddove questi fili queste linee di flusso di campo sono permesse di entrare io ovviamente ho una zona di interfaccia queste zone di interfaccia sono quelle zone dove ci sono quei gradienti delle forze sai cosa succede? che nascono proprio in queste zone le fibre le fibre cellulari il citosole eccetera il citoscheletro ok? e questo fa anche capire perché tutte le reazioni praticamente avvengono sul citoscheletro perché è l'unico punto sono gli unici punti dove ci sono gradienti di forze e quindi è lì che vengono ammassate tratte le molecole dai gradienti di campo ok? ora altro termine della morfogenesi abbiamo guardato le strutture 2D abbiamo guardato le strutture 1D e adesso proviamo a guardare anche in 3D Natale prima ha fatto vedere una cosa interessante che vi mostrerò anche io tra poco che è la cimatica un dominio di coerenza sostanzialmente è una cavità risonante all'interno del quale sono distribuite delle onde stazionarie così come in una canna d'organo così come quando pizzicate la corda di una chitarra vedete un profilo d'onda in realtà poi nella corda della chitarra vedete che questa cosa si fa una sorta di phasing perché? perché le armoniche che si innestano sulla corda sono tante non è monocromatica la questione se no vedreste perfettamente la solita forma d'onda stazionaria che se la prima armonica fa una sola pancia la seconda ne fa due bla 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 poi ne vedete tante perché ovviamente si innestano altri processi non lineari sappiate che i microtubuli sono stati studiati per esempio da un punto di vista oscillatorio e per esempio l'immagine di destra fa vedere il profilo dei massimi diciamo di campo elettrico durante un'oscillazione diciamo pulsata longitudinale del microtubulo ma ci sono molti modi ci sono modi flessionali modi longitudinali quindi di stretching e compressione modi torsionali poi nei corsi io queste cose le approfondisco vi faccio vedere poi tutti i modi solitonici vi faccio vedere che cosa c'è come l'energia viene trasmessa eccetera eccetera però ci sono anche altri aspetti bellissimi i lavori di Alexis Pietak questa fisica dell'Europa dell'Est che ha fatto vedere questa qui che vedete qui è la sezione di un embrione di cucurbitacea che potrebbe essere tipo una zucchina un cetriolo una zucca e la cosa fighissima è che lei ha avuto l'idea di giustamente di pensare ma non è che magari queste forme sono esattamente il calco della distribuzione dei campi all'interno di questo mezzo che ha una costante di elettrica come l'acqua e cosa ha fatto? ha simulato per elementi finiti la distribuzione dei campi elettrici che si avrebbero con determinati modi di oscillazione provandoli e viene fuori che esattamente questi vettori che circolano sono il campo elettrico e questa figura mostra invece il flusso del campo magnetico che come vedete è esattamente concatenato alle circuitazioni del campo elettrico bellissima questa cosa cioè è proprio vero quello che vi sto dicendo la forma è dettata da come oscilli c'è identità tra struttura e funzione il campo plasma come ha detto Natale plasma ma non è un'altra cosa cioè il campo è dato dalla materia e quindi la materia in base alle configurazioni di campo che produce si struttura e poi arriva la cimatica e come si fa appunto anche su grande scala a spiegare che tutte le cellule col pigmento più scuro per esempio le carapace di una tartaruga si dispongano lì 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 come fai? eh guardate per esempio questi sono esperimenti banali di cimatica fatti su dei è saltato qualcosa ah sì perché c'è un è venuto fuori un aggiornamento fatemi datemi un secondo sì su un piatto voidale sono venute fuori cose molto simili poi come dire in una serie di approfondità vi posso far vedere esattamente qual è la forza di elettroforetica che sposta le proprio palline cellule o molecole i pigmenti proprio in base a quelle leggi che vi ho accennato poco fa ed è bellissimo adesso vi faccio vedere un video veloce se mi concedete due minuti che fa vedere un pochino più con calma la non so se la la dipendenza dalla frequenza della disposizione vedete qui ecco questo è interessante ve lo commento io in base alla forma del mezzo a parità di frequenza ottengo suddivisioni della polvere sopra diverse perché l'onda stazionaria è diversa ecco qui sta facendo vedere che ci sono ecco dei flussi per esempio la sabbia fa dei flussi perché perché ci sono più frequenze in gioco e quindi si creano dei battimenti questi 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 sono gli esperimenti che ha fatto Hans Jenny ah è ripartito vabbè volevo fare un attimo pausa datemi un secondo non riesco a manovrare Hans Jenny ha fatto questi esperimenti e guardate che potete veramente estrapolarli quasi e pensarli validi anche nell'ambiente biologico cioè com'è che riescono a essere trasportate sostanze qui lì attraverso questi percorsi o quegli altri proprio è straordinario mettendo in gioco frequenze famiglie di frequenze che creano questo tipo di processi questo tipo di battimenti e vado avanti un pochino perché avete già visto se me lo fa ok ci sono forme interessanti faccio vedere ancora una seconda cosa vedete che si riesce addirittura a decidere la direzione del movimento in base a far sommare due frequenze che sono una un po' più grande e una un po' più piccola ecco guardate questo è molto interessante nel disperdere un solvente in una goccia io decido di contrastare in qualche modo la legge entropica della diffusione cioè anziché diffondersi omogeneamente questo colorante segue dei pattern decisi da quale è il background oscillatorio guardate questo avviene tutti i giorni nelle cellule quando poi si introducessero gli aspetti della frattalità e della sezione aurea nel sistema vivente si capirebbe come si fa in una cellula a compartimentare le zone e a far sì che una certa reazione avvenga qui ma che la propria energia non vada a finire là perché guardate che in biologia è tutto questo io non posso avere la roba che si disperde così a babbo io devo avere la possibilità di dire questa energia deve essere confinata qui deve essere data in questo tempo in questo modo altri momenti devo poter dire vai fino là è straordinario grazie al fatto che l'acqua può essere modulata fare entrare e uscire dalla risonanza parti del sistema ed ecco che io ho il phase locking quando sono in risonanza e pam l'energia si accoppia e parte bellissimo probabilmente volete suicidarvi ma vabbè adesso vi faccio vedere un'altra cosa in 3D che questo è un esperimento molto carino della Clemson University dove una goccia d'acqua viene messa viene fatta levitare in una maniera molto se... ma sta partendo? scusate forse non sono io rimbambito viene fatta levitare mettendola diciamo in uno spazio in cui sono prodotte delle onde ultrasonore stazionarie e viene piazzata praticamente in mezzo all'antinodo di un'onda quindi rimane sospesa poi viene perturbata con un treno d'onda che sia in qualche modo di frequenza tale per cui la goccia ha una frequenza propria quindi come il diapason che ha 440 Hz la goccia viene mandata in risonanza con un primo modo e dopo viene raddoppiata triplicata quadruplicata la frequenza e come vedete vedrete tra un attimo la forma della goccia cambia in dipendenza da qual è la frequenza a cui sta oscillando allora lì vi sta soltanto dicendo che quel doppio che vedete è soltanto il riflesso sulla piastra della goccia allora vedete la seconda armonica crea questo adesso è un po' scattato il video perché non c'è proprio però quando va più piano capite allora arriva la seconda armonica e fa quello arriva la terza armonica e crea questa configurazione poi arriva la quarta immaginate quale sarà un quadrato vedete sono onde stazionarie non sono onde che si propagano sono onde nel mezzo era solo un modo per farvi vedere come è profondissimamente radicata la questione il tipo di frequenza gestisce la forma vado avanti perché tanto non mi voglio cosa ho voluto farvi capire in questo modo come cavolo fa ad avvenire l'embriogenesi come cavolo fa ad avvenire la suddivisione dei tessuti a partire da un qualcosa che ha la stessa roba e quindi ha delle proprietà hanno delle proprietà dilettriche tutte uguali queste celluline iniziali cosa succede? che a un certo punto e questo su me questo input arriva dal grembo dal contesto in cui l'embrione è infatti se tirate fuori fa poco arrivano modi di oscillazione che cominciano a creare differenziazioni per i meccanismi che abbiamo visto adesso che producono differente composizione nelle varie cellule che dovranno essere destinate ai vari foglietti e il fatto che quindi queste cellule avranno delle differenti composizioni assumeranno delle differenti costanti dielettriche e verranno dielettroforeticamente spinte più o meno o qui o lì in dipendenza dei modi stazionari che cominciano ad essere prodotti in questo tipo di sistema c'è un razionale per spiegare la morfogenesi non so se state capendo cosa stiamo dicendo qua dentro guardate che non è per me ma io posso anche parlare dietro una tenda ma nelle facoltà di medicina questa roba qua non sanno neanche di cosa stiamo parlando purtroppo e poi però pretendono in qualche modo di intervenire sul vivente e caspita è un po' un problema però se non si ha cogenza contezza di quello che di quello che è il meccanismo che sta dietro io sto pensando da qualche anno a un'idea di sistema per riprodurre tessuti e fare medicina rigenerativa sfruttando questa roba cioè sfruttando le onde stazionari i modi di oscillazione per riuscire a fare a far surf assemblare un tessuto composto di tutte le specie quando un ostionato vive un trapianto di cute sostanzialmente gli piazzano una pelle che è morta non ha terminazioni nervose non ha burbi piliferi non ha una strutturazione corretta del collagene tripla elica levogira e quant'altro non ha recettori termici tattili perché perché è difficilissimo perché non è che puoi metterti a mano nella pelle a mettere le cose devi far sì che possa crearsi da sotto quindi sarebbe l'ideale riuscire a mettere in coltura tutti i tipi di cellule che servono e che costituiscono una cute dalle cellule del derma a quelle dell'epidermide ghiandole sudoripare recettori neurologici recettori barometrici termici e quant'altro e farle assemblare da dei pattern opportunamente configurati di onde sarebbe una cosa interessante io questo progetto ce l'ho in testa ve l'ho condiviso con voi per farvi capire e quindi questo è quello che accade ora andiamo giusto a chiudere un attimo che cosa significa quindi percepire perché questo è il senso della mia relazione oggi capite che però se partivo da qua vi racconto cosa devo dire percepire è interessante bello ci credo ho cercato di dirvi da dove arriva questa roba allora se abbiamo capito che i sistemi eventi sono sistemi di acqua interfacciale che l'acqua in fase coerente è sostanzialmente un sistema che ha memoria perché tutti gli stati che si configurano dipendono dalla storia termodinamica da quello che c'è stato prima io posso capire la filogenesi in qualche modo nel senso che da dei primi coacervi di molecole che tra l'altro sono state dimostrate potersi formare a partire da elementi inorganici perché i primi aminoacidi i primi anche carotenoidi i primi acidi carbossilici sono possibilitati di crearsi a partire da sistemi inorganici questo è il grande tabù anche della biochimica non è vero perché vi posso far vedere poi non adesso ma nei lavori pubblicati dove per esempio questi giapponesi hanno fatto fluire attraverso un orifizio di 20 micrometri dell'acqua in alta pressione che fosse stata in contatto con l'atmosfera con la diode carbonica e man mano nel tempo sul bordo interno dell'orifizio comincia a costruirsi una membrana comincia a costruirsi una pellicola di roba che analizzata fa vedere molecole organiche notate bene l'acqua con la sua dinamica ha trasformato del carbonio inorganico CO2 barra H2CO3 in molecole organiche quindi acidi carbossilici per esempio aminoacidi carotenoidi e quant'altro immaginate quindi questi primi blob di roba che hanno cominciato in quanto idrofili a strutturare acqua intorno a se stessi acqua interfacciale che a sua volta ha contribuito a richiamare a far generare altre specie fino a che in qualche momento una qualche vescicola non è stata capace in qualche modo di rimanere stabile e di addirittura di produrre frammenti che permettessero un autopoiesi cioè la rigenerazione di tal quale sistema ecco tutto quello che è successo si porta dietro quello che è successo prima ecco che la filogenesi l'adattamento l'evoluzione come vedete è qualcosa che è possibile perché esiste una dipendenza degli stati qui dagli stati là allora immaginate quindi di avere un sistema che è un in qualche modo possiamo chiamare pensiamo anche banalmente una cellula non una meba no? la condizione vivente è una condizione di supercoerenza cioè una condizione in cui tutto il sistema è connotato da i componenti che condividono dei gradi di libertà delle oscillazioni in fase su certi modi di vibrare questo cosa significa? che se io condivido il mio stato con altri significa che qualunque cosa succeda a qualunque altro componente io la so perché viene cambiato lo stato come holos questa è l'emergere del self ok? allora laddove c'è un self allora si può parlare di percezione perché? eccola qua la famosa risposta la domanda che vi ho fatto prima perché il diodo fotomoltiplicatore misura ma la meiba invece fa esperienza perché il diodo fotomoltiplicatore è un sistema in cui il biofotone che viene rilevato interessa quella porzione di sistema quella porzione di materia punto finito non viene cambiato tutto non è che la parte periferica del diodo sa di quel punto in cui è arrivato oppure che i contatti sanno al massimo crea una coppia elettrone lacuna fluisce una piccola corrente finito mentre nell'ameba questa perturbazione riconfigura tutto lo stato è riconfigurato lo stato perché lo stato è fatto dallo stato di tutti se io descrivo lo stato qui dentro di come siete messi e faccio muovere uno di voi lo stato è nuovo e se voi in qualche modo avete condivisione nel nostro caso vi vedete immanentemente il cambiamento siete tutti a conoscenza che lo stato è nuovo in qualche modo quindi questo sistema ha un self e qualunque stimolo lo cambia in totalità ok e quindi è percepente immaginiamo quindi che c'è uno stato alfa che arrivano degli input che in realtà non è necessariamente non è che l'input è per forza qualcosa che io vedo che misuro che arriva anche il silenzio anche il fatto che non c'è luce non so qualunque cosa è un input qualunque condizione è una condizione come diceva Watzler anche non comunicare è comunicare allora quello che succede è che ogni stimolo abbiamo capito perché faccio un'altra ipotesi che qui non c'è ma è chiaro se lo stimolo è troppo grande e distrugge la coerenza questo sistema viene distrutto c'è la morte facciamo finta appunto diamo per scontato che questo stimolo sia uno stimolo contenuto uno stimolo recepibile dal vivente se io cado dal primo piano magari mi salvo se cado dal sesto no facciamo che sono caduto dal primo piano facciamo un altro esempio ma per dire è uno stimolo che produce un cambiamento perché l'atto percettivo quindi il ricevere il detectare l'ambiente significa cosa vuol dire detectare l'ambiente ve l'ho detto prima io detecto in quanto cambio io arriva il glucosio e io so che arriva perché io ho cambiato lo stato se no è solo cognitivo come dice a Mauro Sartoro nel suo libro sono scatole vuote l'atto percettivo non è una scatola vuota qui c'è una precisazione che faccio su Luceva Natale il cervello barra soma non distingue tra virtualità e realtà fermo sì se parliamo di aspetti nero vegetativi se parliamo di rappresentazioni parliamo di scatole vuote se io penso a un leone che entra in questa sala non mi sta salendo l'adrenalina e il cortisolo devo veramente avere l'idea di crederci che ci sia magari uno fa un ologramma così figo che io ci casco allora sì che ho un'attivazione se no no pensate all'orso bianco che vi sbrana ah sì ci pesa non sono mica agitato bisogna proprio entrare in uno stato neurovegetativo per avere quel cambiamento fisiologico quella mappa neuronale quella mappa viscerale per dirla con Damasio allora l'atto percettivo è il cambiamento di stato ma attenzione l'input fa due cose una vale per tutti viventi e non viventi che è la reazione l'altra è la risposta cioè l'output no? è questa parte che dipende da tutta la storia perché tutte le configurazioni che ci sono state prima in base a tutti gli stimoli che ho ricevuto eccetera che si sono anche in qualche modo memorizzati ma non to cure nel senso ah c'ho la scheda classica errore che si fa continuamente dell'isomorfizzare gli stimoli viventi a delle schede madre dei computer ah sì perché c'è l'hard disk dove viene memorizzati i bit ma cosa? quali bit? i bit sono una roba borracciata che facciamo noi perché stiamo usando piccoli pezzetti di silicio qua e là qui l'informazione è tutta analogica tutta analogica tutto un continuum ecco perché non parlo mai di informazione ma parlo di configurazione storia di configurazione quindi questo poi sarà interessante per parlare di evoluzione questa storia decide quindi come sarà l'output è il famoso come risponderà il gatto a cui hai dato il calcio dipende dalla storia che ha avuto un altro gatto fa un'altra roba percepire l'ambiente o qualsivoglia condizione implica un aggiornamento dello stato cioè una modifica del self percepire quindi è cambiarsi e allora qui vengono due o tre riflessioncine molto interessanti sto avviandomi alla conclusione gli stati somatici quindi sono intendibili come stati della fase di oscillazione cioè il modo in cui io sto in questo momento ma guardate che non è che vale solo per sistemi complicati come noi che hanno un cervello e quant'altro ripeto vale anche per l'ameba se l'ameba in quel momento è in omeostasi oppure è in fame oppure è in intossicazione non lo so quell'essere in quello stato è il oscillare in un certo modo questo è chiaro ecco perché appunto fisiologia significa oscillo in quel modo perché quando sono arrabbiato ho quella biochimica ho quel portrait fisiologico e se no non sarei arrabbiato non so come dire cioè è quello l'essere arrabbiato non è che ah sei arrabbiato e quindi hai quella fisiologia no questa è una scatola vuota dire l'essere arrabbiato scisso dalla fisiologia è una scatola vuota questo guardate che è un punto molto importante soffermateci molto bene ecco quello che vi ho detto fino adesso fa chiederci ma quindi le cause di come il vivente è dove sono dove tra virgolette è una domanda malposta l'ho fatta apposta in modo provocatorio perché voglio far notare una cosa spesso il nostro approccio di biologia molecolare che è importato nella medicina ti dice appunto che la fisiologia è quella lì tu hai quella malattia perché non lo so ci sono quelle reazioni biochimiche oppure appunto c'è quella composizione lì e quindi ho quello stato lì ma a parte il fatto che biochimica e fisiologia non sono due cose ma sono la stessa cosa analizzata a scale diverse è come se io dicessi a uno senti ma perché cammino e lui mi dice ah perché la tua tibia si muove tibia e peroni si muovono perché c'è una contrazione delle fibre del quadricipite grazie al fatto che c'è una depolarizzazione del moto neurone con scarica di acetilcolina che viene dal cervello ma tu quello non mi sta dicendo perché cammino mi sta dicendo il camminare a una scala più piccola di descrizione ci avete mai pensato ma dottore ma perché ho l'artrite reumatoide ah perché vedi c'è gli autoanticorpi che fanno questo ma quello non è il motivo quello è l'artrite reumatoide cioè hanno sostituito il perché con il come vi raccontano il come succedono le cose e vi raccontano che vi dicono il perché ma non è vero il perché da un'altra parte il relatore che mi seguirà ve lo dirà ma ci arrivo un attimo ad accenarlo anch'io cioè il perché in base a qual è la configurazione della mia storia con cui io interpreto quell'input con quella risposta percettiva allora questa cosa del primo punto qui le cause eccetera eccetera che vengono del funzionamento non sono da ricercare a scala molecolare anche se ovviamente questo approccio descrive utilmente le cose ma appunto cosa voglio dire che sarà senz'altro utile descrivere a livello biochimico e quindi vedere che quell'enzima è piegato male perché quella proteina è stata codificata non ha sufficienza e bla 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 ma poi vedi che se vai dietro dietro e perché? e perché quel tratto di genoma non è stato e perché? e alla fine allargano le braccia per forza oppure ti dicono eh c'è stato un errore ma come fa a avvenire un errore in un sistema che è tutto super coerente perché io capisco che come ieri sera se mentre respiro mi finisce un moscerino dritto nella trachea attivo di botto una tosse ed è una risposta sensata per far uscire il corpo estraneo ah sì sì il corpo è intelligente e poi però se ho un carcinoma gastrico ah lì il corpo è impazzito le cellule non capiscono niente dov'è la riga? dov'è la riga tra l'intelligente sensato e l'idiota? non c'è è impossibile metterla è un atto arbitrario allora il perché non viene detto da questo aspetto ora uno mi può dire ah ma quindi mi stai dicendo che se io ti intossico non cambio la tua comune ma certo che mi cambi però non devi dimenticarti il livello della risposta sempre il suo esempio se mi metto un mozzicone di sigaretta sulla mano acceso se me lo spengo lì avrò un primo ordine di fenomeni che pertiene alla reazione certe molecole verranno denaturate per l'alta temperatura avrò della disidratazione avrò cambiato la composizione perché ho distrutto qualcosa eccetera ho anche aggiunto qualcos'altro è finita lì? e no dopo c'è la risposta che c'è solo se sei vivo cioè c'è solo finché c'è un self c'è solo finché c'è una correlazione olografica di fase su tutto il sistema è su questa configurazione di partenza che vanno cercati i perché ecco quello che chiamiamo habitus percettivo e da lì possiamo capire per esempio le allergie e tante altre cose la noce la mangia lui la mangio io lui sta bene io muoio eppure la composizione chimica di fondo è la stessa perché il sentire che quella sostanza introdotta nel mio organismo fa scatenare tutta una reazione istaminica e nell'altro caso no i recettori sulle cellule ce li abbiamo praticamente uguali ecco per ricollegarmi a quello che ha detto Natale un'ultima cosa vedete se noi rimaniamo in questo schema del tipo ah sì in base a quello che tu mangi in base a quello che tu che sì è anche vero cioè ma non dobbiamo dimenticare l'aspetto risposta rimaniamo arriviamo a dei paradossi straordinari io ho incontrato questa cosa che vi faccio vedere che mi ha veramente fatto sorridere questo è un studio che cita anche Lipton e ti fa vedere come se voi date i topolini aguti con l'igiene aguti una dieta super metilante con acido folico betaina colina vitamina B12 le mamme alimentate in questo modo fanno una prole che non esprime questo gene e c'ha i topolini bruni non obesi non tendenti al diabete di pelo appunto scuro tra l'altro questa cosa noi che conosciamo le leggi biologiche parliamo sarebbe interessante da capire perché a me piacerebbe anche capire allora il gruppo di controllo che non è stato alimentato con dieta metilante ha fatto i figli col gene aguti quindi cicciottelli biondici bla bla il gene il gruppo che aveva invece questa dieta di metilante ha fatto la prole che non esprimeva questo gene a me piacerebbe anche un po' capire le due storie diciamo dei vissuti di questi due gruppi di topolini perché sinceramente proprio per il fatto per quello che vi faccio vedere adesso se no saremo all'arma di dio come si dice no perché allora qui si conclude per esempio che se uno volesse se l'obiettivo fosse infatti tra l'altro i ricercatori concludono l'articolo non tanto con questa frase ma dicendo ah dobbiamo stare molto attenti all'alimentazione perché decide tutto quello che diciamo decide tantissimo come il nostro genoma si esprime però facciamo un attimo una parte se il gene aguti è un qualcosa che sarebbe bello evitare perché così il topolino non è obeso e così ha un al pelo scuro normalmente eccetera eccetera si conclude da questo studio era il topolino sicuro da questo studio che i folati e altre vitamine fanno bene perché metilano guardate quest'altro studio questo altro studio è fatto su 8000 fumatori un gruppo dei quali è stato alimentato con dieta ipermetilante cioè con dieta scusate con dieta perdono ho fatto un lapsus con dieta ricca di acido folico e quant'altro e un altro gruppo no e giustamente come da buon costume scientifico si è concluso che caspita quelli che hanno mangiato tanta frutta e verdura sono alimentati bene avevano la dieta ricca di folati hanno avuto vantaggi perché ve lo dico perché perché con una dieta ricca di folati un gruppo di circa 8 geni che sono coinvolti nella oncosoppressione non viene cioè viene espresso perché non viene ipermetilato conclusione i folati fanno bene perché evitano l'ipermetilazione ma scusate ragazzi mettetevi un po' d'accordo ma i folati metilano prima domanda o prevengono dalla metilazione seconda domanda ancora più importante uno mi può dire beh ma caspita ma in quel caso quel gene andava bene che fosse metilato e in questo caso quei geni oncosoppressori devono non essere metilati perché così sono letti e così attivano l'oncosoppressione anche questa idea di pensare che i geni decidono una soppressione o una promozione sono solo gli strumenti ce l'ha già spiegato Natale il gene è va che mi serve quella roba là me la fai punto ma la cosa ancora più interessante quindi è e chi è che direbbe al folato di andare su quel tratto lì e non su quello là perché detta così è una botta di culo scusate cioè se va là sono salvo se va qua mi viene il tumore capite? ecco questo è è un punto centrale e il meccanismo lo spieghiamo come è in base a quello che vi ho detto prima cioè le frequenze di lavoro della matrice acquosa gestiscono gli incontri molecolari e i siti perché laddove c'è questa risonanza a lì arrivano e vengono convocati a chiamata i nostri giusti reagenti quindi è straordinario vedere come c'è una perfetta rappresentazione dei macro stati emotivi con la fisiologia nel microscopico cioè quindi quei macro stati emotivi che poi sono anche condivisi esatto nei sistemi familiari eccetera si accoppiano cioè sono esattamente si inverano perfettamente nell'espressione o non espressione di quei geni lì nella metilazione o metilazione di quei geni là in quel tipo di biochimico in quel tipo di epigenetica eccetera eccetera è questo è perché sono quella cosa lì è questa la cosa interessante quindi rischiamo se non entriamo nella logica del il vivente è un processo di percezione rischiamo di arrivare a farci due grasse risate tipo qua una ricerca inglese ha evidenziato che la carne rossa fa bene al cervello e ai muscoli un'altra ricerca afferma che la carne rossa aumenta le probabilità di ammalarsi di cancro del 98% nonostante migliori le prestazioni sessuali una ricerca afferma che il 70% della popolazione mondiale è intollerante al lattosio un'altra ricerca dice che 7 celiaci su 10 non sanno di esserlo l'olio di palma contenuto nella cioccolata aumenta del 56% la possibilità di morte precoce un'altra ricerca afferma che pure la mela afferma che una mela al giorno toglie il medico di torno senza buccia altrimenti cancro una ricerca neozelandese dice che l'acqua si può bere anzi un'altra ricerca dice che un bicchiere d'acqua con mezzo cucchiaino di bicarbonato e succo di limone aiuta a curare il cancro la stessa ricerca dice che se però il cancro non ce l'hai se lo fa venire secondo una ricerca dell'università di harvard ogni volta che si tira lo sciacquone i germi contenuti nella tasca possono essere nebulizzati fino a 1,8 metri di distanza attenzione si possono depositare perfino sullo spazzolino da denti i germi si insinuano tra le spavole ed è impossibile eliminarli tutti una ricerca svedese conclude che conviene accettarli e conviderci secondo un gruppo di esperti britannici nella barba si annidano numerosi batteri di diverso tipo che favoriscono la diffusione di malattie nella barba sono presenti anche tracce di feci una ricerca scozzese però ha dimostrato che le donne sono attratte dagli uomini con la barba gli scienziati dicono che il pizzetto invece è da sfigati secondo uno studio iberico farsi troppe docce aumenta il rischio di infezioni alla pelle una ricerca israeliana di contro dice che se non ti lavi puzzi l'importante è non usare i prodotti in commercio che compromettono il pH della pelle bisogna utilizzare solo prodotti naturali olio d'oliva 2 uova burro farina 100 grammi di zucchero granella di nocciole infornate a 180 gradi per 30 minuti circa e buon appetito ah no scusa questa è la ricetta del ciambellone errore mio siamo arrivati a questo punto appunto c'è molta gente che vive in questo ah no aspetta ho letto questo aspetta ho letto quello una cosa importante le ultime due cose sono finito che voglio chiarire molto perché voglio specificare un aspetto importante che vedo che continua ad affliggere la diffusione della conoscenza di questa di questa rigorosa correlazione tra eventi percettivi e fisiologia dataci dalle 5 leggi biologiche del dottor Hammer e il fatto è che spesso ci si trova a parlarne con tipicamente ne parlavamo ieri sera con Natale con psicologi per esempio no o con altri e ti dicono ah no ma sì ma le leggi biologiche sono troppo rigide figurati se a tutti deve venire quella cosa allora qui c'è un grosso errore epistemologico cioè non si capisce queste persone non colgono che quando si parla di relazione sovradeterminata tra significato biologico e fisiologia non si sta parlando invece di modelli di percezione allora un conto sono i modelli percettivi che sono assolutamente unici e irripetibili e con un buon lavoro come vi farà vedere Gabriele e Policardo dopo anche modificabili ma è un lavoro che deve andare qua non qua se no sono scatole vuote un conto sono i modelli percettivi e un conto è il fatto che una volta che la semantica biologica è quella ossia che quello stimolo significa attacco all'integrità una volta che quello stimolo è impossibilità di prendere il boccone separazione contatto non voluto eccetera conflitto del territorio c'è poco da fare se non fosse ferrea questa correlazione di cosa stiamo parlando cioè vorrebbe dire che non è vero che il sistema vivente ha implicato quella semantica cioè non è vero che quell'evento ha significato quella cosa perché altrimenti non sarebbe fatta a parte guardate quando arriva quando si parla di DHS cioè quando arriva l'insulto biologico quello è straordinario questo che come come giunge come si manifesta la fase attiva che consegue all'arrivo di questo stimolo all'arrivo di questa configurazione è già proprio quello stato che contiene tutti i presupposti per fare tutto il processo nel momento in cui cambia poi la condizione quindi per esempio si va in conflitto lisi questo è bellissimo cioè non è che se lo stimolo non mi decoerentizza totalmente cioè non mi fa fuori la minaccia alla mia coerenza la mia omiostasi prodotta dalla DHS è quel qualcosa che già per quella semantica per quel significato che ha per la mia sopravvivenza mi ha configurato in modo da avere quel programma avete capito questo punto è questo per quello che non è sceglibile cioè inciampo nel gradino mi configura già per il programma motorio non è che ah ho avuto quella DHS e il mio corpo sceglie intelligentemente il programma motorio no siamo sempre vedete nella nell'aiato tra cause tra come e cosa tra come e perché tra dei come e dei perché non c'è e questo è il fatto il vivente è un holos un holos di significato un holos di materia un holos di configurazione un holos di storia memoria teleologia poi si potrebbe discutere si fa nei corsi come mai nasce la teleologia come si fa ad avere l'emersione di finalità da parte del vivente e questo è un po' più sottile adesso non lo tocco chiudo dicendovi direi che ho già fatto abbastanza riflessioni in questo lavoro che vedete riportato qui io ho fatto una review compendiando un po' tutto quello di cui vi sto raccontando oggi è in inglese ovviamente comunque cercherò di tradurre in italiano il prima possibile sono 44 pagine dove appunto io schippo perché ne abbiamo già parlato vado avanti e arrivo alla alla conclusione alla fine facendomi vedere che secondo me siamo riusciti almeno a condensare oggi una quella che ho chiamato triade diciamo terna triade per comprendere il vivente io vi ho parlato cioè bisogna porsi delle domande centrali per capire cosa è il vivente io vi ho parlato di perché percepisco cosa vuol dire percepire come emergono e cosa sono fisicamente i significati nel vivente e che cosa è il senso biologico forse non l'ho detto ancora abbastanza bene ma il senso biologico è il fatto che c'è un accoppiamento tra la configurazione prodotta dallo stimolo e il significato che questo stimolo ha per la sopravvivenza questo è il senso biologico proprio in due parole a queste domande potremmo rispondere con la quantum electrodynamics e con la coerenza alle domande che sono invece quale significante quale significante soggettivo sta alla base del mio sintomo quindi a cosa serve quel sintomo dove mi trovo nella fisiologia qual è se c'è un'urgenza oggettivo o soggettivo a queste domande rispondono le cinque leggi e all'ultima grande domanda perché percepisco così cioè voglio dire in questo ufficio abbiamo tutti quel capo lì perché a me viene l'ulcera e a lei no quindi quali sono i miei modelli percettivi di interpretazione a questa domanda io credo che una buona risposta la diano le biocostellazioni familiari cioè qual è la mia storia in qualche modo genealogica culturale emotiva sociologica antropologica che configura quei modelli che decideranno per me quale significato hanno quegli stimoli e qui con questa cosa cedo appunto la in qualche modo il testimone in questo modo a Gabriele Policarto che parlerà nel pomeriggio e vi ringrazio e vi ringrazio e vi ringrazio a tutti i miei modelli che si sono